come si fa la bicicletta la faccio pure io mi dico come si fa la bicicletta la faccio pure io dietro e avanti entrare in scivolata appena vedi la palla allora facciamo una bella bicicletta adesso io che vuol dire così tè niente nabbo dove stati che vuoi da me? Sto marcando il cross ma è colpa mia adesso stavo marcando su stavo marcando su stavo marcando perché stavo marcando perché stavo marcando nel palo come si fa la bicicletta? le sese la levetta analogica prima dietro poi avanti eh abito special ferma 1 2 7 e 9 passamela non me la passa se la passo con lag finisco fuori dal campo eh per lui perchè loro arrivano incredibili le sese ok abbiamo capito con l'uomo a dare uno perché copriva la porta dove non c'era vorrei con guarda vieni qui andiamo a fare sesso guarda 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 progettura buco la patria per sentare la fa pagina ma uno si chiama somma e rai ho visto visto in mezzo in mezzo so sesso e sesso ma è qua e qua e qua a cui mettila ci siamo tutti quanti sesso special niente ancora Mertens